Buongiorno amici della Rana, bentornati e buon anno! Eccoci con la nostra promozione settimanale dedicata alle aziende. Ogni settimana, infatti, nel mio negozio trovate sempre nuovi articoli in promozione. In questi giorni abbiamo il notebook HP ProBook serie 4530S, che bilancia funzionalità, consiglia e convenienza. La stampante multifunzione HP LaserJet Pro, ideale per le aziende che devono stampare documenti, eseguire scansioni, copie e inviare fax, tutto con un solo dispositivo dal costo contenuto. In promozione ci sono anche i toner per questa stampante. Inoltre, nel mio negozio potete trovare tutti gli articoli per l'ufficio, dalla cancelleria alle macchine di struggi documenti e molto altro. Questa settimana, tra i vari articoli per l'ufficio in promozione, potete trovare il perforatore a pinze in acciaio, che consente di pinzare fino a 70 fogli. Segni i codici degli articoli che ti interessano e vieni a scoprirli nel mio negozio. Approfitta delle nostre promozioni, ti aspettiamo!